focus sugli ascolti e sullo share di pomeriggio 5 news e pomeriggio 5 timonati da simona branchetti e barbara d'urso simona branchetti e barbara d'urso chi fa più ascolti pomeriggio 5 news o il vecchio format pomeriggio 5 per quasi un mese la giornalista in forza albiscione ha sostituito la conduttrice napoletana naturalmente il pubblico si è diviso c'è chi ha auspicato un rapido ritorno di barbarella in video e chi invece avrebbe preferito che la branchetti restasse in pianta stabile alla guida del talk scalzando la collega al di là degli umori e delle simpatie ci sono i freddi numeri che fotografano chi tra le due donne è riuscita ad intercettare più utenti prima di entrare nei dettagli relativi a share e ascolti da segnalare che alberto matano con la vita in diretta in onda su rai 1 ha puntualmente staccato sia simona branchetti sia barbara d'urso battendole in media con una distanza che va dai 2 ai 6 punti percentuali di share la giornalista è andata in onda con pomeriggio 5 news dal lunedì al venerdì la sua avventura è iniziata il 20 dicembre 2021 e si è conclusa il 14 gennaio 2022 nei giorni in cui ha timonato il talk ha raccolto una media di un milione e 712 mila 800 utenti con una media di share pari all'11,7 per cento